Ben tornati a tutti. Oggi è giovedì, 7 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Sportunati sia in amore che al gioco. Abituati a vincere e prendervi tutto, oggi vi tocca un passo indietro, con venere in quadratura, se il partner c'è oggi se ne sta sulle sue, preferendovi gli amici anche per l'uscita serale, se manca nessuna novità all'orizzonte, casomai solo rimpianti e un ricordo che non si cancella facilmente. Non meglio le finanze, incuranti delle cifre dei vostri conti, continuate a spendere in oggetti utili ma costosi. La formuletta due cuore e una capanna non è nelle vostre corde, ma se sperate in un'eredità o in una vincita milionaria, sprecate la vostra fantasia. Per voi infatti il generoso San Nicola, antenato di Babbo Natale, non getterà tre palle d'oro attraverso il cammino per darvi una mano, lo fece secondo leggenda per aiutare tre povere ragazze, diventando protettore delle giovani da marito e dei bambini, ma poiché non rientrati nel giro di queste categorie dovete sbrigarvela da soli. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce, si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Un periodo niente affatto positivo, vi resta solo l'amore. La ripresa sarà lenta e in salita. La salute fa qualche capriccio. Prendete del tempo, oggi, per ogni decisione. Notizie inattese in arrivo che potrebbero capovolgere delle situazioni aprendo scenari inattesi. Rendetevi conto che una situazione non può andare più avanti in un certo modo, siete chiamati a una decisione drastica e decisa. Fate la cosa giusta. La migliore soluzione sarebbe quella di accattivarvi una persona molto influente per risolvere una questione spinosa che vi sta particolarmente a cuore. Però considerate che prima o poi vi presnetterà il conto. E in arrivo l'amore, tuttavia badate che tornerà una vecchia fiamma. Un nuovo incontro schiarirà la vostra vita sentimentale e vi renderete conto del tempo perso con la vecchia fiamma. Non lanciatevi in polemiche inutili e che non portano a nulla, superate gli ostacoli con intelligenza, diplomazia e pratica. Divergenze con familiari e colleghi. Sentirete forte la necessità di sfogarvi con qualcuno. Tuttavia cercate di non confidare i vostri segreti, quelli più importanti. Potreste pagarne poi le conseguenze. Oggi se potete fate del bene a qualcuno, anche un piccolo gesto, un piccolo aiuto, una buona parola saranno graditi a chi un giorno potrebbe restituirvi centuplicato il tutto. Oggi potreste fare degli incontri importanti. Studiate bene le persone e cercate di capire a cosa mirano e se hanno le carte in regola per poter essere vostri amici. Una venere imbronciata in scorpione non deve cambiare il vostro umore con i componenti della famiglia, riprendete il consueto calore umano come vuole il sole, vostro nome tutelare, oggi benefico. Ottimi i rapporti con gli amici di vecchia data con cui organizzerete una serata di ricordi e di convivialità. Una parola solo per voi, o meglio un verbo, con la stessa iniziale di Plutone nella vostra sesta casa, produrre. Bando dunque alle fantasie netuniane che potrebbero condurvi fuori strada, ai sogni d'amore e alle antiche leggende ci penserete stasera a casa, una volta installati in tutta e pantofole sul vostro caro vecchio divano. Fino ad allora, però, il vostro pensiero dovrà focalizzarsi su ciò che state facendo, per non rallentare l'organizzazione della vostra squadra o rischiare di interrompere a metà un progetto interessante. La luna invergine nella vostra seconda casa è la promessa di un lavoro ban fatto, un guadagno discreto e soprattutto continuativo, che di questi tempi non dispiace a nessuno. Amore ed eros. Sereni e stabili, solo un filo annoiati, quelli che in coppia ci stanno già da tempo e a parte le grane quotidiane e i conti che non tornano, non siete certo pentiti della scelta compiuta. Prudenza invece per quelli che si sono appena incontrati e ancora si stanno studiando o quelli che stanno cercando l'anima gemella attivando il sonar. Bimbi in gambissima ma capricciosi a tavola, sull'alimentazione non transigete, insegnate loro a mangiare correttamente, non per compiacere voi ma se stessi. È il portentoso Marte, astro della grinta vitale, ritornato favorevolissimo nel segno amico del sagittario a guidarvi. Una capacità di esprimere efficacemente il vostro amore vi accompagna. Di fronte a qualche incomprensione che potete registrare nel rapporto amoroso, vi difendete benissimo con la vostra calda passionalità, lo slancio irresistibile in cui risultate sempre vincenti. In special modo se siete nati nella seconda decade leonina. Lavoro e denaro. Musi lunghi sui rendiconti bancari, il denaro arriva regolarmente e regolarmente viene risucchiato da spese impreviste. Molto in questo fa il vostro stile di vita, abituati a un buon penore non concepite le rinunce. Raccomandata invece la moderazione, le feste fanno perdere la testa a tutti quanti e poi come sempre il giorno dopo la befana si piangono lacrime di coccodrillo, prevenire è meglio che curare. Se siete a capo di un gruppo di persone che dovete seguire e ne siete responsabili, oggi con la luna in bilancia, riuscirete ad essere decisi senza straffare, amabili senza con questo risultare prepotenti. Benessere. Dieta morigerata per non ritrovarvi al lavoro indisposti e appesantiti, non occorrono grandi piattoni da demolire, bastano alimenti nutrienti ma leggeri. Piano anche con la bollicina, punitiva per il fegato, l'unico frizzante concesso è l'acqua minerale. Denaro. Osserviamo come sono i colori e i pittori del vostro segno. Le vostre preferenze si orientano dunque su tonalità decise, sono esplosive, come vuole il sole nel suo domicilio più mirabile. Giallo, arancio squillante, rosso carminio. Oppure verso la conservazione di un eterno prestigio, di un'immutabile eleganza, di imperturbabile regalità, come vuole Eolo, secondo pianeta governatore del segno. La replicazione di icone contemporanee, come Marilyn Monroe e la Coca-Cola, in colorazioni dai contrasti vividi, smaglianti, trova felice conferma nella solarità artistica del leone, Andy Warhol. Per lei, se la vostra possessività rischia di far fuggire via il partner, vi resta una carta da sfoderare, la vostra favolosa cucina. Pigliatelo per la gola. Per lui, passi compensare le frustrazioni finanziarie con piattoni di pasta stracondita, ma almeno capovolgete il bicchiere, uno stravizio alla volta. Colore delle emozioni, grigio per la. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.